Bentornati finalmente di nuovo qui sul mio canale, so che è passato tantissimo tempo dall'ultimo video e so anche che non ci sarà nulla che io possa dire per farmi perdonare di questo lungo periodo senza nuovi video quindi tanto vale entrare subito nell'argomento di oggi. Siamo qui finalmente con la quarta puntata della nostra serie divulgativa di meccanica quantistica e ho pensato oggi di fare un po' il punto della situazione. In effetti nelle tre puntate precedenti sono state dette veramente tantissime cose. Diciamo che è stata messa veramente molta carne al fuoco e questo probabilmente può aver creato diversi punti poco chiari. Di fatto tante delle cose che sono state dette probabilmente sono suonate assolutamente strane e lontanissime da ciò che probabilmente molti avevano in testa proprio su che cosa sia la meccanica quantistica. In effetti sentire frasi come la meccanica quantistica parla di cose che noi non vediamo oppure frasi come lo stato cioè la descrizione di un sistema quantistico non si trova qui nel nostro spazio tridimensionale ma si trova in uno spazio matematico sono tutte espressioni che possono spiazzare parecchio. Oggi quindi vorrei un po' fare come vi ho già detto il punto della situazione e per fare questo vorrei abbassare di molto il livello del linguaggio nel senso che vorrei essere un pochino più terra a terra senza entrare in massimi sistemi. Cioè vorrei che vi convinceste che effettivamente le cose si fanno nel modo in cui appunto si fanno in meccanica quantistica cioè i fisici lavorano nel modo che è stato descritto nelle puntate precedenti non perché sia una cosa divertente da fare in quel modo e non perché loro abbiano scelto di fare in quel modo ma perché quello è l'unico modo possibile di fare se vogliamo in qualche modo descrivere la realtà fenomenologica che ci circonda che è naturalmente l'obiettivo principale della fisica. La maggior parte di noi infatti ha una visione delle scienze e della descrizione del mondo fisico appunto da parte della scienza molto classica cioè legata proprio alla meccanica classica di Newton. Ad esempio se io voglio descrivere un corpo che scende lungo un piano inclinato e che quindi scivola per descriverlo utilizzo naturalmente le leggi della meccanica classica che in qualche modo mi descrivono che cosa stia succedendo in ogni istante cioè io in ogni istante ho il totale controllo della situazione io vedo l'oggetto che scende posso fotografarlo in ogni istante posso anche filmarlo e appunto in ogni singolo istante di tempo posso dire l'oggetto si trova a una distanza di non so 10 centimetri dal punto di partenza dopo un certo tempo si trova a 10 centimetri e mezzo e così via. Cioè ho un controllo totale di tutto quello che succede sul mio sistema fisico. In meccanica quantistica purtroppo tutto questo va a cadere e non va a cadere perché l'abbiamo deciso noi va a cadere per cause intrinseche alla fisica stessa cioè per cause che vanno al di là del nostro controllo. L'abbiamo visto bene all'inizio parlando degli elettroni che formano la nostra figura di interferenza che quindi si comportano in modo ondulatorio ma solo finché noi non andiamo a interferire con loro. Ecco il problema è questo cioè che da un punto di vista fondamentale i sistemi quantistici non devono interferire con niente nemmeno con un osservatore quindi tutto quello che succede non deve essere in nessun modo toccato dall'esterno. Quindi sempre andando avanti con gli esempi facciamo finta che adesso io fisico che studia la meccanica quantistica voglia descrivere un atomo di idrogeno in particolare un elettrone che si trova all'interno di un atomo di idrogeno. Io non posso più immaginarmi che ci sia il mio bel nucleo di idrogeno col mio elettrone che gira intorno in modo classico e che ogni istante di tempo occupa una posizione ben precisa. Io non posso quindi proprio farlo. Il problema è che io posso misurare alcune cose dell'atomo di idrogeno. Ad esempio posso misurare i livelli energetici degli elettroni che si trovano in questo atomo. Posso farlo studiando i cosiddetti spettri. Io quindi posso effettuare delle misure sull'atomo di idrogeno però io non posso andare ad analizzarlo nei dettagli cioè non posso fare una fotografia in cui vedo il singolo elettrone che si sta muovendo. Io devo indagare a posteriori, cioè io devo andare a dire, bene, supponiamo di avere un sistema nucleo di idrogeno ed elettrone lontani tra di loro. Adesso come faccio a studiare che cosa succede quando l'elettrone si trova nelle vicinanze del nucleo di idrogeno? Cioè come faccio a studiare effettivamente il sistema nucleo più elettrone che non è altro che l'atomo nella sua interezza? Io posso studiarne lo spettro e studiando lo spettro mi accorgerò che ottengo tanti numeri che mi rappresentano i vari livelli energetici, ok? Avrò varie energie. Il problema è io non so assolutamente come saltino fuori questi livelli energetici. Cioè per fare un parallelismo col piano inclinato io mi accorgo ad esempio che prendendo la pallina mettendola sul piano inclinato lei arriverà in fondo con una certa energia cinetica dovuta alla sua velocità e alla sua massa. Il fatto è che io posso studiare le caratteristiche del piano inclinato, l'altezza, la larghezza, la lunghezza del piano inclinato, posso studiare le caratteristiche della mia pallina e in qualche modo descrivere l'intero sistema nella sua evoluzione e trovare effettivamente quell'energia cinetica della pallina finale che poi misuro anche nella realtà. Quindi posso mettere nel mio problema matematico tutti i dati iniziali, altezza del piano inclinato, larghezza, poi ovviamente ci sarà anche la gravità, l'attrito eventualmente, e poi svolgendo i calcoli trovo l'energia cinetica finale della pallina e poi confronto questo con l'energia cinetica reale che misuro e trovo che effettivamente la mia teoria rappresenta bene ciò che avviene. Il fatto è che però classicamente io posso osservare nella sua totalità questo fenomeno, posso fotografare la pallina mentre scende, posso filmarla, posso andare veramente nei dettagli a capire cosa succede in ogni singolo istante di tempo. Ecco, col mio sistema atomo o di idrogeno io non posso, io non riesco a prendere e vedere l'elettrone che cosa fa esattamente in modo da darmi quei livelli energetici in uscita che misuro appunto studiando i miei spettri. Quindi la teoria è completamente diversa nel caso dell'atomo di idrogeno. Ovviamente io potrei provare a ricreare un'immagine classica, quindi ad esempio immaginarmi che il nucleo sia una sorta di stella attorno a cui orbita l'elettrone, ma quello che ottengo è un risultato assolutamente sbagliato e lontanissimo dal vero valore che misuro. Invece si è scoperto, in particolare l'ha scoperto il signor Schrödinger, che trattando l'elettrone in modo completamente diverso e assolutamente anti-intuitivo rispetto alla nostra immagine classica che può avere una pallina, quindi trattandolo appunto come un'onda, quindi scrivendo una complicatissima equazione d'onda all'interno della quale poi entrino anche varie altre caratteristiche legate proprio al nucleo e all'elettrone, improvvisamente io calcolandomi i livelli energetici trovo proprio quelli che misuro studiando i miei spettri. Ed è questa la chiave, diciamo che è questo il lavoro del fisico, è questa la parte che interessa al fisico, cioè il fisico non vuole andare poi a vedere i massimi sistemi, qual è la vera realtà, cos'è l'elettrone dal punto di vista più profondo. Quello che basta a un fisico, diciamo a un primo livello, naturalmente poi anche i fisici sono persone curiose che vorrebbero capire e andare oltre, però a un primo livello quello che ha fatto Schrödinger e quello che possiamo fare anche noi volendo è costruire un problema matematico in cui abbiamo il nostro nucleo di idrogeno, abbiamo il nostro elettrone, noi trattiamo l'elettrone proprio come se fosse un'onda, lo facciamo, possiamo farlo, non dobbiamo poi chiederci ma è lecito farlo? No, queste sono domande che eventualmente si possono fare dopo. Prima di tutto noi diciamo beh proviamo, lo trattiamo come un'onda, lo facciamo andare lì nelle vicinanze del nostro nucleo di idrogeno che poi verrà trattato matematicamente in modo abbastanza particolare e complicato e otteniamo infine come risultato del nostro calcolo matematico proprio il livello energetico corretto, quello che poi misureremo in laboratorio. E a questo punto il gioco è fatto nel senso che un fisico, come vi ho già detto, è contento così. A lui basta questo. Il problema è che naturalmente nemmeno il fisico può andare a dire esattamente che cosa sia successo all'interno di questo atomo di idrogeno, poi da un punto di vista profondo e di descrizione massima e più completa possibile. Non può proprio farlo e quindi a un certo punto il fisico dice ok lo accetto, non posso sapere esattamente che cosa sia successo, non posso fare come col mio piano inclinato in cui ho l'oggetto che scende e posso in ogni istante vedere cosa stia succedendo. Io devo arrendermi e accettare il fatto che quando si tratta di fenomeni quantistici alcune cose accadono e basta senza che io possa andare nel dettaglio a vedere come siano accadute. Ed è questa la cosa che poi rende più scontente le persone quando si cerca in qualche modo di spiegar loro questa natura di inconoscibilità quantistica. Noi possiamo imparare molto da questi piccoli primi successi, cioè nel momento in cui noi capiamo che ci sono degli oggetti che sono di fatto delle onde, anche se non capiamo bene che tipo di onde siano, come mai lo siano, però ci sono degli oggetti che sono appunto onde e noi possiamo utilizzare questo formalismo delle onde per descrivere tantissimi fenomeni. E quello che succede è che abbiamo un successo dopo l'altro. Effettivamente la meccanica quantistica da un certo punto in poi è diventata un modo di interpretare i fenomeni. Cioè avevamo già spesso, nella maggior parte dei casi, dei fenomeni classici con una loro descrizione classica in tantissimi ambiti diversi per quanto riguarda ad esempio la meccanica statistica oppure per quanto riguarda la fisica dello stato solido. Noi riuscivamo già a descrivere più o meno che cosa accadesse, però sempre da un punto di vista classico, quindi usando le leggi della meccanica ed eventualmente dell'elettrodinamica classica. Con la meccanica quantistica invece abbiamo acquisito un importantissimo strumento, diciamo un importantissimo insieme di strumenti che poi ci ha permesso di reinterpretare tutte le descrizioni, quindi tutti i modelli precedenti, alla luce di questo comportamento ondulatorio. Per fare un altro esempio noi abbiamo la meccanica statistica che ci permette di descrivere e di spiegare le leggi della termodinamica supponendo che in realtà il gas sia composto da un punto di vista microscopico da tante piccole palline. Di fatto però noi riusciamo a spiegare solo fino a un certo punto le leggi della termodinamica supponendo che queste palline siano soggette alle leggi della meccanica classica, quindi agli urti, alle accelerazioni, così come li conosciamo grazie alle leggi di Newton. Da un certo punto in poi noi dobbiamo supporre che quelle particelline che costituiscono il gas non siano più delle palline che rimbalzano seguendo appunto le leggi di Newton ma che siano delle piccole onde. In questo modo si riesce a fare il passo successivo, cioè arrivare a spiegare tantissimi altri fenomeni che osserviamo e che noi non riusciamo a spiegare se utilizziamo questa visione classica di piccole palline. Nel momento in cui invece queste piccole palline diventano delle piccole onde e seguono le leggi della meccanica quantistica improvvisamente spieghiamo una moltitudine di fenomeni che naturalmente fanno parte ormai della nostra quotidianità. Come vi dicevo già nella primissima puntata di questa serie, quando parliamo di semiconduttori, di laser, di diodi appunto o di transistor, quando parliamo quindi di tanti elementi che permettono semplicemente la nostra vita di tutti i giorni, quegli elementi funzionano perché noi da un punto di vista microscopico stiamo descrivendo gli oggetti proprio fisici come delle piccole onde, che quindi in qualche modo rispettano tutto quello che abbiamo detto fino adesso sulla meccanica quantistica. Tutta la descrizione per quanto riguarda la probabilità, vi ricordate quella densità di probabilità di cui parlavamo nella prima puntata? Ecco, tutte quelle cose di fatto funzionano ed è per questo che noi le facciamo. Lo so che, come al solito, questo modo di dire le cose non è molto popolare, soprattutto per chi è abituato magari a una divulgazione spettacolare che vada appunto a toccare i massimi sistemi, che cose significhi la realtà e cose del genere. Però se il nostro obiettivo è capire meglio come lavori un fisico, quindi come un fisico voglia descrivere il mondo che ci circonda, ecco questo è il punto di vista più vicino possibile a chi lavora appunto nella ricerca. Quindi diciamo che a questo punto dobbiamo pensare che noi abbiamo prima di tutto capito che esiste solo questo concetto di probabilità e di probabilità che è data da una densità di probabilità che non è altro che la nostra funzione d'onda complessa. A questo punto però noi andiamo oltre. Una volta che abbiamo capito come descrivere matematicamente questa funzione d'onda, noi utilizziamo nei campi più disparati questa descrizione appunto all'interno della meccanica statistica, ma in tantissimi altri ambiti. in generale si può sempre fare la quantizzazione dei fenomeni supponendo che prima fossero classici e noi improvvisamente decidiamo di sostituire appunto questi oggetti classici con delle onde. Di fatto abbiamo anche oggetti matematici più complicati come la miltoniana che prima era classica, poi è diventata quantistica. Però il giochetto è sempre quello, ma questo ci fa capire anche che in realtà è cambiato radicalmente il nostro modo di approcciarci ai fenomeni fisici, perché abbiamo un po' perso forse quella voglia di andare a capire in profondità come avvenga una certa cosa, almeno a un primo approccio, e piuttosto cerchiamo di prendere e fare entrare subito in gioco il comportamento quantistico. Cioè noi abbiamo un oggetto classico, bene, proviamo a descriverlo utilizzando un oggetto quantistico, come un'onda, un operatore quantistico e così via. Andiamo avanti con i calcoli e vediamo che cosa succede. Però di fatto bisogna capire se questo sia dovuto veramente a una nostra minor voglia di andare a capire a fondo che cosa succeda, o semplicemente a due fattori. Da un lato appunto l'impossibilità di andare più in profondità di così. D'altro canto però bisogna anche pensare che tutto il nostro intuito che ci permette di dire che ad esempio i fenomeni classici sono spiegati interamente, è dovuto proprio al fatto che noi siamo cresciuti all'interno della meccanica classica. Quindi la vera domanda è, se noi adesso immaginassimo di scambiare tra di loro meccanica classica e meccanica quantistica, cioè se noi vivessimo di fatto in un mondo in cui i fenomeni sono intuitivamente quantistici, cioè se noi vivessimo in un mondo in cui ci sembra del tutto ovvio ad esempio il principio di indeterminazione di Heisenberg, in cui ci sembra del tutto ovvio il comportamento ondulatorio della materia, oppure in cui ci sembra evidente la validità dell'equazione di Heisenberg. Ecco, in un mondo così i fenomeni classici ci sembrerebbero così intuitivi? Cioè non sarebbe semplicemente tutto al contrario? Ecco, questa naturalmente è una domanda che lascia spazio a opinioni personali, quindi non è una domanda che avrà una risposta scientifica. Però la mia convinzione personale è proprio che in realtà il mondo quantistico in qualche modo è lontano dalla nostra quotidianità ed è per questo che ci sembra così strano e così inconoscibile. Di fatto, ed è una cosa un po' simile a quello che si potrebbe dire anche di altre teorie come della relatività ristretta, se noi fossimo cresciuti in un mondo profondamente quantistico ma in modo evidente, quindi in un mondo in cui la nostra quotidianità è evidentemente quantistica, quindi in cui noi possiamo sviluppare un intuito proprio per la meccanica quantistica, ecco, in un tale mondo probabilmente sarebbero le leggi della meccanica classica, quelle strane, cioè l'idea che ci sia ad esempio una traiettoria ben precisa, oppure l'equazione f uguale m per a, cioè forza uguale massa per accelerazione, ci sembrerebbe del tutto assurda. Non lo so, comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate. Per adesso io avrei concluso con questa quarta puntata che, come avete visto, è molto breve ma semplicemente perché volevo fare un po' il punto della situazione. Nella prossima puntata, che sarà anche l'ultima di questa serie, parleremo invece di quali siano un po' le frontiere della meccanica quantistica, cioè dove ci abbia portati per quanto riguarda le teorie più evolute che ci siano. In particolare parleremo della teoria quantistica dei campi, che è uno dei primi successi per quanto riguarda appunto una visione relativistica della meccanica quantistica, e poi andremo oltre, parleremo di tentativi di quantizzare la gravità e parleremo anche della teoria delle stringhe. Detto questo, vorrei solo parlare brevemente del principio di sovrapposizione, perché ci servirà nella prossima puntata. Non ci siamo ancora soffermati molto su questo principio, perché in realtà l'abbiamo un po' dato per scontato, però di fatto quando noi abbiamo una teoria ondulatoria, quindi quando noi descriviamo la realtà utilizzando le onde, noi abbiamo un principio molto molto importante che ci permette di semplificarci tantissimo la vita. Cioè, se io ho un qualsiasi punto nello spazio che venga colpito da due onde diverse, allora io posso descrivere il comportamento delle onde in quel punto immaginando di separare in due le due onde, cioè immaginandomi di prendere singolarmente ogni onda e di sommare i loro effetti in quel punto. E questo è molto importante perché ci porta ad esempio anche a descrivere in modo abbastanza elementare i vari fenomeni dell'interferenza. In effetti quando due onde si incontrano possono succedere varie cose, le due onde possono potenziarsi, quindi costituire quella che è detta interferenza costruttiva, oppure possono addirittura eliminarsi del tutto, cosa che succede appunto nel caso dell'interferenza distruttiva completa. E tutto questo può essere descritto appunto prendendo le due onde separatamente e sommando gli effetti, senza bisogno di introdurre nuove onde o nuovi fenomeni strani. Tutto questo naturalmente vale in ogni teoria che riguardi delle onde, quindi ad esempio anche nell'elettromagnetismo se noi abbiamo due onde elettromagnetiche faranno la stessa cosa. Ecco, anche in meccanica quantistica abbiamo questo principio di sovrapposizione, che però ci dice di più, nel senso che noi abbiamo ad esempio l'equazione di Schrödinger e quello che succede è che se noi abbiamo due soluzioni diverse dell'equazione di Schrödinger, quindi quello che stiamo dicendo è che se noi abbiamo due modi diversi di descrivere lo stesso sistema fisico quantistico, allora anche la loro somma sarà ancora una soluzione dell'equazione di Schrödinger. Quindi anche la loro somma sarà ancora un modo corretto di descrivere il sistema fisico. E questo ha portato ad esempio a ragionamenti particolari, come ad esempio quello che poi porterà alla formulazione del cosiddetto paradosso del gatto di Schrödinger, su cui adesso non mi soffermerò più di tanto, però l'idea è che tu puoi avere un sistema quantistico, che è appunto questa scatola con all'interno un gatto, e se tu hai che il sistema in cui il gatto è vivo costituisce una soluzione dell'equazione di Schrödinger, quindi effettivamente una descrizione possibile di quel sistema, e se il sistema scatola con gatto morto è un'altra soluzione possibile, allora anche la somma delle due soluzioni sarà una soluzione possibile. Quindi tu puoi avere una soluzione corretta dell'equazione di Schrödinger, quindi un modo corretto di descrivere il mio sistema, che è però una soluzione in cui il gatto è contemporaneamente sia vivo sia morto. Probabilmente dedicherò un video apposta per quanto riguarda questo paradosso, perché andrebbe analizzato un pochino più a fondo. Comunque l'idea è che se io ho due soluzioni diverse, che entrambe mi descrivono però un sistema fisico ben preciso, allora anche la loro somma sarà ancora una soluzione. Detto ciò, appunto come vi ho già anticipato, questa è una puntata un pochino più breve del solito, grazie per aver guardato, spero che ci vedremo presto, ho deciso di non promettervi più quando uscirà la prossima puntata, perché poi naturalmente non riuscirò a rispettare le promesse fatte. Questo semplicemente perché si tratta di un periodo lavorativo veramente molto molto intenso, oltretutto ho molti altri impegni, quindi ecco spero veramente che ci rivedremo presto. Comunque vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, perché qui bene o male riesco a esserci quasi quotidianamente, quindi per aggiornamenti un pochino più in tempo reale seguitemi qui. E detto ciò io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!